E' stata una vera e propria battaglia agonistica quella fra Loruca Rigoldi e Geram Eloy Angra. Al palazzetto dello sport di Dueville il campione Vicentino mette assieme 12 riprese di grande intensità. Partito molto bene Rigoldi ha fatto subito capire al proprio avversario di voler dimostrare ancora una volta il suo valore e così è stato. Rigoldi ha costruito la sua impresa girando a grande velocità e alla precisione dei propri colpi. Fino al settimo round e il dominio è stato indiscusso. Nelle successive tre riprese ha mostrato qualche segno di stanchezza riuscendo però a difendersi bene. Spinto dalla grande preparazione del suo allenatore Gino Freo, Luca ha disputato gli ultimi due round in totale controllo del match. Il verdetto unanime dei giudici alla fine di un incontro molto difficile condizionato dal gran caldo ha consegnato nuovamente la cintura di campione dell'Unione Europea dei pesi Super Gallo al campione Vicentino che riesce dunque nell'impresa di difendere il titolo. Dopo mesi di duro allenamento e grandi sacrifici l'Europa si inchina al dominio del nostro campione ti chiede.